Perché in un bosco nascono cinque tipi di alberi diversi? Perciò si chiama bosco. Questa è la forma che si è convenza di aver messo qua il calvolo. Poi veniva il buco, come quando mangiavamo anche noi, la bocca. Quando si è arrivato sopra, si mette la fonte, si mette la verdura, non si mette la terra, perché c'è il Genova tutto il terreno, vai, il ringalente. But now only there, I'm here every day, right here come where? I'm here every day I hear the morning Poco allora è capace che esce poco alla parte nata quindi ancora crede così non faria per arrivare mattina io l'ammarei qualcosa due ore d'ora Prima quattro come a capace Sì 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 A poco di rinno si va a tirare tutto quanto. Ci sono un po' di piazza perché si lasciano un po' a capo. Questa sera potremmo sforare anche il naso. Il pane che si deve definire pane è che lo fanno con la farina integrale. Il pane che si deve fare è che lo fanno con la farina. Il pane che si deve fare è che lo fanno con la farina. Il pane che si deve fare è che lo fanno con la farina. Il pane che si deve fare è che lo fanno con la farina. Il pane che si deve fare è che lo fanno con la farina. Il pane che si deve fare è che lo fanno con la farina. Il pane che si deve fare è che lo fanno con la farina. La gioventù di oggi. La gioventù di oggi è così. perché quando andiamo a scuola noi la prima gioventù passata la seconda gioventù di oggi oggi noi si è già io fino a 24. mi dice che andiamo a Salerno riponovato. Quando uno si è riponovato fammi senti che cosa per fare. Tutti quanti siamo riponovati. Tutti siamo riponovati. Anche il nostro lavoro siamo riponovati. Un istruiamo in una maniera e noi lo istruiamo in un altro. Grazie a tutti. Grazie a tutti